Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Che cosa stai dicendo? Ah erano due, ok Ah erano due Erano due Ma ero dietro l'albero! Ma ero dietro l'albero! What? Sinceramente non riesco a capire queste cose Non si dice così! Se non le dà fastidio io ringrazio un po' di ragazzi No no, fa benissimo Salutiamo il signor Cristian, il signor Alessandro, Adriano Far, Alessandro Lumare, Mattia Galva Vediamo chi arriva ancora Perché ai ragazzi gli piace che li salutiamo in live È vero A me piace un botto e piano piano la pagina sale Salutiamo Nini Ielo, Stranger Walter Andre Ronchi, sentala Walter 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 Buongiorno, 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 dove sono? Dove siete? Dove siete? La Pami non è stata tanto bene stanotte ma adesso sta bene quindi si sta solo riposando Vediamo un po' Signor Spritz, buongiorno E il signor Andrea Costa l'abbiamo già salutata Eccolo lì il signor Andrea Costa, eccolo là, eccolo là Cazzo c'è, 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 molto bene, molto bene Super chill, super comodi E andiamo Buongiorno Anche al signor Dripium Buongiorno, buongiorno, buongiorno Dai, forza, forza col follow Forza col follow, è gratis Ragazzi, ma sono incastrato negli alberi Cristo Pronto Dai, cazzo Toto il bullo, salutiamo Buongiorno anche a te Il signor Matteo Novello, buongiorno Dai, cazzo Te l'ho detto, se ti do fastidio io mi muto, quindi non ti preoccupi Non ci preoccupi Ok Matteo Novello mi piace Matteo Novello gli piace Matteo Novello è un bel nome, dicono dalla regia E Arbresh Giasciari Beh, questo è difficile da dire Gli altri che li salutiamo, forza Ciao, player Ciao, player Io saluto ancora un po', eh Vediamo se Mattia accetta le 16 Delia Federico Lore Rigat Istacampolo Francesco Colombi Francesco Lepore Ottimo Nooo È pronto La rifacciamo dopo, raga Refoundo la bet Ah già, non funziona la cam Vabbè, poi la mettiamo Peccato perché stavo gioca... È pronto, raga Devo andare a mangiare Allora... Allora... Intanto ero già morto, mi ha complito con la macchina, quindi GG Che schifo, però, raga Dai, ragazzi, ma... E ho fatto pure top 8 Eh, rifondo un cazzo... No, non è suicidio, raga Ero già morto Guarda come gioca questo Guarda come gioca questo Guarda come gioca questo Porco... Ma si può giocare così? Ma si può giocare così? Minchia, esplodi! Esplodi! Godo, porco diaz Mi scopo tua madre! Signori, fate punto, esclamativo band Rapidamente Ok Ta-ta-ra-ta-ra-tara Anche F, quando gli portano gli alert, ha tutti i capelli sconfigliati Sì, confermo È proprio così Merd Io ne ho metto una top 2 Sì, un mezz'oretta sì, Vincenzo, ma più tardi Sospiro sommario Che nomacciaccio Vieni qua Raga, questo è già 328 corone Oh mio Dio What? Lo sai che c'è una cosa Nella vita Che inizia Piccolina Si allarga E si richiude Si chiama figa Se ancora non l'hai scoperta Sappi che ti farà divertire molto più di Fortnite Fallito chiusone Merda Lei non ha resistito, esatto E poi gli ho fatto anche ovviamente Oh, yes Sono una bitch E non è più come prima, raga Cioè, sì, mica, prima era un pezzone Oh, comunque Ah! Porco giù Tata, tata, potevi Che arriva sui ship Porco dizzy Che cazzo Ma dai, è morto con una scoregia pure questo Dov'è Lex you? Venga Ah! Non può morire Che succede? calmo calmo non fatevelo non fatevelo non fatevelo non fatevelo mi auguro che lei non ha solo l'arco si ho ancora 18 golpi penso con la con la puzzona se voi non gli avete sparato l'ucciso io no 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 is non fare mai più una cosa del genere no ragazzi voi non avete idea che conto io sì ovvio io vagabondo che sony o vado in giro dico porco ehi tu che io ma sì proprio tu hai un abbonamento amazon prime acci minchia se ce l'ho ma allora lo sai che puoi abbonarti gratuitamente al tuo canale twitch preferito ma è facilissimo ti basta digitare in chat punto esclamativo prime